Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, consueto disordine della mia libreria. Allora, cari signori, qualche giorno fa ho parlato del Nakajima KI-43 Hayabusa, detto Oscar, ovvero sia il più importante a livello numerico caccia dell'aviazione dell'esercito giapponese durante la seconda guerra mondiale e in tanti mi hanno chiesto di parlare anche di un altro aeroplano, ovvero sia del successore del KI-43, il Nakajima KI-84 Hayate, che in giapponese significa bufera, questo bellissimo, eccolo qua, scusate, questo bellissimo aereo qui, che nel codice alleato era stato chiamato Frank, questi sono i classici, venne usato soprattutto per la difesa metropolitana, per la difesa del territorio metropolitano giapponese, eccone qua altri, un altro esemplare, un aereo bello, elegante, filante, dannatamente ben costruito, moderno, molto probabilmente a mio personale giudizio probabilmente il miglior aereo giapponese della seconda guerra mondiale, eccone un profilo tecnico, ecco qua, la fonte è questa, che è una dispensa della Osprey pubblicata in Italia da Del Prado qualche anno fa, una dispensa estremamente curata, estremamente interessante, con delle illustrazioni molto interessanti e molto 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 ben fatte, come ben si evince anche con i miei modesti mezzi, penso che si noti che la qualità dell'impianto iconografico di questa dispensa c'è e si vede, eccola qua. Insomma, il Nakajima KI-84 Hayate, Frank in codice, nel codice alleato. Tutti lo considerano universalmente uno dei migliori caccia giapponesi della seconda guerra mondiale. Il Nakajima KI-84, il bufera, lo Hayate, rappresentò il disperato sforzo dell'industria nipponica per contenere, insomma, l'offensiva alleata contro il territorio metropolitano giapponese. In meno di un anno e mezzo i giapponesi fabbricarono 3514 esemplari di questo eccezionale aereo. Eccone qua un altro tre viste, ok? Guardate, si vede anche con i miei limitati mezzi penso che si possa capire perfettamente quanto sia bello, filante e curato questo aereo. Allora, tenete presente una cosa, si parla di 3514 KI-84 costruiti in meno di un anno e mezzo. E questo, nonostante il caos e la devastazione, ha portati al sistema industriale giapponese dalla campagna di bombardamenti americani. Negli ultimi mesi di guerra i giapponesi fecero né più né meno come avevano fatto i tedeschi, trasferirono gli impianti di produzione sottoterra. E queste fabbriche erano potenzialmente in grado di completare 200 aerei al mese. Niente male, insomma, diciamoci. Allora, il Frank, il nome in codice alleato era Frank, fu sempre per gli aerei americani un avversario estremamente temibile perché, insomma, ripeto, bellissimo aereo, volava bene, i piloti lo apprezzavano molto, era un aereo, era un aereo veloce, maneggevole, potentemente armato e che se messo in mano, ripeto, messo in mano ai piloti giusti, faceva dannatamente male. Ma il problema, come ben sapete, la carenza di carburante, la scarsa qualità del carburante e dei lubrificanti, la carenza di piloti addestrati e la situazione disperata del Giappone negli ultimi mesi di guerra impedirono allo Hayate di fare, come dire, di più. Le prestazioni di questo aereo erano, a dir poco, sorprendenti perché nella primavera del 1946 un esemplare di K.I.O. 84 catturato fu collaudato ampiamente ed estesamente in America. Con i lubrificanti di buona qualità, insomma con l'olio motore americano e con le benzine americane, ebbe un aumento non indifferente delle prestazioni. In pratica, mettiamola così, con un peso a pieno carico di 3400 kg, che era considerato tipico per un aereo in condizioni operative, per un K.I.O. 84 in condizioni operative, fu raggiunta, il Frank, lo Hayate, raggiunse una velocità massima di 687 km orari a 6000 metri di quota, che era una velocità superiore rispettivamente di 5 km orari e di 35 km orari rispetto a quelle del P-51 di Mustang e del P-47 di Thunderbolt. E' logico che il Frank fosse un brutto cliente per gli aviatori americani. Allora, il progetto del K.I.O. 84 nacque nel 1942 e il primo prototipo fu prodotto un anno dopo, circa gennaio-febbraio 1943, se non ricordo male. Allora, era un aereo nato bene, perché le prove e i collaudi si svolsero senza alcuna difficoltà e i primi esemplari di pre-serie arrivarono ai reparti tecnici, ai reparti sperimentali per le valutazioni, diciamo, nei primi giorni d'estate del 1943. Allora, nel mese di ottobre del 1943 una unità sperimentale venne equipaggiata con i nuovi aerei allo scopo di collaudarli in condizioni operative. I risultati furono più che buoni e condussero alla decisione di avviare l'immediata produzione di serie per mezzo di un vasto programma a cui furono chiamate a partecipare diverse industrie aeronautiche. Allora, però c'è da dire che tutte le condizioni del sistema industriale diventarono sempre più critiche e nel 1944 la Nakajima cercò di limitare al massimo i consumi di alluminio, perché alluminio non ce n'era praticamente più. Quindi la struttura del KI-84 fu modificata in modo da sostituire molte componenti con altre di legno. Per esempio la versione KI-84-2 aveva la parte posteriore della fusoliera e le estremità alari e altri elementi minori della struttura in legno per risparmiare leghe leggere, una necessità nel disastrato Giappone dell'ultimo anno e mezzo di guerra. Addirittura negli ultimi mesi di guerra la Tachikawa produsse una variante interamente costruita in legno del KI-84, questa variante denominata KI-106, che fu un completo successo, sorprendentemente, perché i progettisti riuscirono a mantenere quasi inalterate le ottime caratteristiche di volo del modello base. Poi ovviamente il programma del KI-106 non giunse praticamente mai a termine perché ci furono i rallentamenti, la produzione delle parti non andava avanti a causa dei bombardamenti, insomma, il Giappone, le difficoltà giapponesi sotto le bombe della seconda, della parte finale della seconda guerra mondiale. Il caos, il Giappone era in ginocchio, lo sappiamo, anche se non volevano arrendersi. Allora, praticamente il KI-84, lo Hayate, eccone qua ancora di nuovo il Tre Viste, eccolo qui, lo Hayate fu un'eccellente caccia, agile, velocissimo, potentemente armato, di, insomma, un aereo veramente, un cosiddetto pilot's plane. Ho letto qualche resoconto di piloti americani che hanno collaudato il Frank e lo definiscono un aereo assolutamente superlativo. pari, senza alcun dubbio, al Mustang, allo Hellcat e al Corsair. Un aereo, il KI-84, che, e niente, purtroppo non ha lo stesso impatto mediatico, se vogliamo, dello Zero, ma che rispetto allo Zero, a mio modesto, va bene, momento, lo Zero era della marina, questo era dell'aviazione dell'esercito, ma, ripeto, si trattava di un aereo eccezionale, di un aereo superlativo, probabilmente, ripeto, il miglior aereo da caccia giapponese della seconda guerra mondiale, il Nakajima KI-84 Hayate, che nel codice alleato era chiamato anche Frank. Un grande classico dell'aviazione, un bellissimo aereo, un aereo assolutamente superlativo. Eccolo qua, eccolo qua. Ah, a proposito, ricordiamoci una cosa. In un anno e mezzo i giapponesi, in una situazione disperata, come quella dell'ultimo anno e mezzo di guerra, costruirono più di 3000 Hayate, più di 3000 KI-84. E questo dovrebbe far pensare, veramente, fino a che punto i giapponesi avrebbero voluto continuare la guerra. Cioè loro fino all'ultimo giorno di guerra hanno costruito decine e decine di caccia per continuare a combattere. E soprattutto, e soprattutto, e soprattutto, cosa, quanto fu danneggiata la produzione di questo aereo dalla campagna di bombardamenti convenzionali e incendiari sul Giappone. Purtroppo è brutto dirlo, ma ripeto, se non puoi colpire le fabbriche che sono sottoterra, devi colpire la mano d'opera. Questo fecero gli americani, questo non entra in testa a tanta gente, ma non mi fate fare la figura del filo, del filo Yenchi a prescindere che sapete bene che non è vero, però oggettivamente lasciamo stare. Comunque sia, Nakajima KI-84 Frank. Un grande aereo, un grandissimo aereo, il miglior aereo da caccia giapponese della Seconda Guerra Mondiale. Un grande aereo, un grande classico dell'aviazione. Tutto qua. Quindi, cari signori, io, come sempre, vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e nuovamente vi dico arrivederci al mio prossimo video. E come sempre, ripeto ancora, commentate, scrivetemi, fate sapere che cosa ne pensate. Tutto qua. Quindi, ancora di nuovo, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!